Dalle carcasse di auto rubate e abbandonate nelle campagne a quelle gettate per cancellare ogni traccia nei corsi d'acqua con evidenti conseguenze dal punto di vista ambientale e del dissesto idrogeologico. Dal canale Ciappetta Camaggi, collettore dei reflui del depuratore di Andria, ormai vero e proprio cimitero a cielo aperto delle scocche di macchine e camion al fiume Ofanto. Qui siamo in territorio di San Ferdinando di Puglia, una decina le macchine recuperate non senza difficoltà, abbandonate probabilmente in un punto e trasportate fino qui dalla corrente. Tutte nuovissime di grossa cilindrata, oggetto di furto, cannibalizzate dei pezzi di ricambio venduti sul mercato nero e alcune date alle fiamme. Probabilmente si tratta di una razzia recente su commissione, veicoli rubati sul territorio e non solo. Una piaga oltre che uno scempio. Le carcasse, quando non vengono recuperate in tempo, come in questo caso, rimangono adagiate sul letto del fiume anche per anni. Quando arriva la piena contribuiscono, insieme ai detriti e ai rifiuti, a dostruire il normale deflusso dell'acqua e causano esondazioni che provocano danni ai terreni di un fiume che quasi non esiste più.